Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Crona che commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Partiamo con i titoli degli argomenti che tratteremo all'interno di questa puntata. Green Pass e vaccinazioni. Mozione GKN. Verso la revisione dei distretti sanitari. Il punto sulla campagna vaccinale e la discussione sul Green Pass sono state al centro del dibattito dell'Aula. Io credo che davanti a noi per superare questa terribile pandemia abbiamo due strade. Da un lato quella di continuare velocemente le vaccinazioni e noi come regione dobbiamo fare la nostra parte. Dall'altra quella che i cittadini rispettino le regole minime che ci siamo dati. È evidente che in tutto questo va definito un sistema che tranquillizzi i cittadini. Il Green Pass va in questa direzione. Il Green Pass serve per fare in modo che negli eventi pubblici, nell'utilizzo dei mezzi di trasporto, i cittadini si sentano più tranquilli. Ed è anche un modo per invogliare alla vaccinazione. È evidente che abbiamo ancora troppe cittadine e troppi cittadini che non hanno fatto il vaccino. In molti casi c'è ancora chi è dubbioso. Io allora mando un messaggio a tutte le cittadine e a tutti i cittadini della Toscana. Vaccinarsi non vuol dire proteggere se stessi. Vaccinarsi vuol dire sentirsi parte di una comunità e cercare di dare il proprio contributo per uscire da questa terribile pandemia. E allora nel momento in cui ci sono le condizioni è giusto che il Green Pass venga istituito e venga istituito tenendo conto anche delle situazioni e delle differenze che ci sono regione per regione, territorio per territorio. Noi diciamo intanto a livello toscano mettiamo in evidenza che la Toscana sta andando bene. e sulle vaccinazioni noi siamo favorevoli al fatto che le persone vaccinate possano beneficiare di una vita sociale, pubblica, andare in un bar, in un ristorante, in un teatro, in un cinema, andare a uno stadio, a una manifestazione sportiva, a partecipare alla vita pubblica. Siamo convinti che anche persone che lavorano nel pubblico, penso insegnanti ma soprattutto medici, debbano essere vaccinati e crediamo che appunto soltanto una volta vaccinati si possa tornare a una vita normale. Quindi è evidente che il Green Pass è fondamentale per tornare alla vita, bisogna continuare a vaccinarsi, bisogna investire sulla cura e bisogna fare delle norme che o costringono le persone o inducano di fatto a vaccinarsi perché altrimenti noi non ne usciamo più per i prossimi 3 o 4 anni da questa pandemia. Oggi chi ha il Green Pass non deve fare quarantena. Mi meraviglia che ancora il Governo non abbia legiferato e non abbia fatto un'azione concreta su questo. Qual è il vantaggio per un cittadino oggi di vaccinarsi? Questa è la domanda che mi sono fatto. Se uno dei miei parenti o chiunque io abbia incontrato nelle 48 ore antecedenti ha il Covid e diventa positivo il sottoscritto che ha due dosi vaccinali e il passaporto vaccinale va in quarantena, questo è inaccettabile. Occorre per chi si vaccini che ci sia un vantaggio che non è sicuramente un vantaggio per la propria salute, quindi non finire in ospedale, un vantaggio per la collettività perché non andando in ospedale non affolli gli ospedali ma occorre che ci sia anche un vantaggio diretto, cioè un beneficio diretto. Chi ha il Green Pass, chi ha la doppia dose vaccinale non deve finire in quarantena. Questo è quello che mi auguro, Forza Italia proponga al Governo e mi auguro che il Governo lo faccia in maniera molto rapida e molto veloce. Sentir dire che per entrare nei bar o nei ristoranti occorre il Green Pass è una roba che onestamente ci lascia esterrefatti. E vorrei anche dire che dobbiamo smetterla con questi annunci roboanti che incutono soltanto timore e che fanno sì che le famiglie stiano a casa e che l'economia non giri. La campagna di vaccinazione sta andando avanti, ovviamente c'è stato in luglio questa riduzione di consegne che ha determinato un po' uno stop, come abbiamo visto sono state per diverse settimane chiuse le prenotazioni, ora sono riaperte e ora sta diventando il problema convincere soprattutto gli over 60 a vaccinarsi. Noi abbiamo ancora 75.000 over 60 che non si sono vaccinati, il messaggio dell'importanza di vaccinarsi deve essere fondamentale perché lo sviluppo della variante Delta che vediamo in questi giorni, poi basta guardare gli altri paesi, comporterà sicuramente nei prossimi giorni un aumento dei contagi e questi si è abbinati a un'immunizzazione del maggior numero possibile di persone, soprattutto delle persone che più rischiano, possono permetterci di affrontare con un altro profilo e soprattutto senza riaumentare le ospedalizzazioni. Questo è un elemento importante, poi da metà del prossimo mese cominceranno anche le vaccinazioni dei pediatri per gli over 12, ricordo anche per loro sono già aperte le prenotazioni, anche in vista dell'anno scolastico, è importante continuare a far passare il messaggio che il vaccino è sicuro e serve per combattere questa epidemia. Modificare i criteri per il passaggio da zona bianca a zona gialla e cambiare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde. L'impegno alla Giunta regionale di farsi portavoce presso la Conferenza delle Regioni e il Governo è stato chiesto nella mozione presentata dal portavoce dell'opposizione Marco Landi della Lega, mozione che è stata poi respinta. Abbiamo portato una mozione molto semplice dove si chiedeva in termini corretti quello che deve fare un'assemblea regionale, cioè impegnare la Giunta e il Presidente della Giunta ad intervenire alla Conferenza delle Regioni, a dire che questo concetto del Green Pass per l'esperienza e per i dati che abbiamo anche in Toscana e quindi portare un valore aggiunto alla Conferenza delle Regioni è un'assurdità. È stata approvata all'unanimità una mozione del Consiglio regionale a tutela dei 422 lavoratori licenziati della GKN di Campi Visenzio. Noi chiediamo alcune cose molto chiare, il ritiro del licenziamento delle 422 persone, chiediamo di attivare subito tutti gli strumenti di sostegno ai lavoratori, di attivare i percorsi previsti dalle crisi di impresa che saranno poi, avrebbero dovuto essere operativi dal primo settembre e che quindi non è possibile in questo momento attivarli. Quindi abbiamo chiesto al Governo un impegno forte, l'abbiamo chiesto anche all'Europa, perché il senso vero è che non ci siano GKN né oggi né domani. Dalla Regione deve arrivare un segnale che queste pratiche non sono consentite. Quindi dobbiamo attivare tutti gli strumenti necessari perché questo, che è il primo grande esempio, sia l'ultimo e che si riesca a salvare queste persone che non vogliono neanche venire a un tavolo delle trattative, così come ci hanno detto, neppure con la Regione. Un sostegno forte, unanime, una mozione che impegna il Governo a trovare una soluzione urgente, immediata, a bloccare i licenziamenti collettivi, a tutelare le famiglie, i lavoratori, le persone chiedono dignità, chiedono lavoro, siamo vicini alla loro sofferenza, alla fatica, alla loro protesta, ma soprattutto serve che il Governo faccia presente a livello internazionale, alle multinazionali, il ruolo importante della localizzazione di queste grandi aziende. Non si può ovviamente dalla sera alla mattina chiudere un'attività imprenditoriale, non si può dalla sera alla mattina abbandonare la forza lavoro, le persone che fino al giorno precedente hanno dato tanto della loro vita, la loro anima, la loro identità, la loro dignità per portare avanti poi gli interessi economici di un'impresa. Quindi serve una risposta immediata e servono anche leggi, normative, e mi auguro un atto urgente del Governo per sospendere i procedimenti, per discutere ovviamente con l'azienda e costringere ovviamente le imprese che operano nel nostro Paese a un dialogo costante con le istituzioni. Noi abbiamo sempre sostenuto che quello che è successo non solo è inaccettabile, ma è anche uno schiaffo al nostro sistema Paese. Occorre che immediatamente il Governo si faccia sentire e non è una questione legata al blocco o allo sblocco dei licenziamenti, è una questione legata alla dignità dei lavoratori e alla dignità di questo Paese. Non si può pensare per chiunque, sia esso un investitore straniero o un investitore italiano, arrivare nel nostro Paese, cercare di prendere quello che c'è e poi abbandonare tutti. La questione dei licenziamenti è inaccettabile, immorale e va immediatamente respinta. Per questo noi abbiamo chiesto fin dall'inizio che i lavoratori vengano immediatamente riassunti e che si apra non solo un tavolo con quell'azienda, ma con tutte le nostre aziende del territorio, per far capire che Governo e Regione stanno dalla parte dei lavoratori, stanno dalla parte dell'impresa, quando fra questi c'è un rapporto fatto di serietà e di rispetto reciproco. È inaccettabile quando uno dei due, siano essi i lavoratori o siano essi i proprietari delle imprese, pensano che il rapporto è squilibrato rispetto a quello che c'è in campo, spetta alla politica a fare da arbitro. I temi del lavoro, della tutela e dell'occupazione sono temi che devono unire le istituzioni, che devono manifestare vicinanza soprattutto a tutte quelle famiglie che dall'oggi al domani si ritroveranno a mettere in dubbio un percorso di vita. Quindi su questo, ripeto, la politica si deve unire. È chiaro che ora c'è una sfida importante, una sfida però che chiama la politica alle proprie responsabilità. C'è una sfida che parte a livello di Ministero dello Sviluppo Economico. Il peso della Toscana oggi comunque si è fatto sentire a livello istituzionale, ma questo non basta. C'è la parte statale, la questione ministeriale, ma c'è anche una parte regionale. E per quello che noi possiamo fare sicuramente l'obiettivo principale è uno, quello di agire per quanto più possibile, sia sotto il profilo della tutela, ma soprattutto sotto il profilo nella denegata ipotesi in cui purtroppo i licenziamenti dovessero concretizzarsi, soprattutto sul fronte della reintroduzione al lavoro. La Toscana deve fare di più, può fare di più sul fronte dell'occupazione e sul fronte della tutela proprio dei lavoratori. E su questo noi come opposizione siamo disposti sicuramente a fare la nostra parte. Chiederemo che in seconda commissione sia aperto un confronto anche sui tavoli di crisi che tuttora appunto sono pendenti in regione Toscana. Chiameremo anche il consigliere speciale Fabiani che fino ad oggi appunto si è occupato della gestione delle crisi perché vogliamo capire. Io ho letto il decalogo che hanno presentato i lavoratori di GKN, c'è un punto che andrebbe tatuato sulla pelle, quando i lavoratori dicono non considerate GKN un caso isolato o una criticità, perché purtroppo di GKN ce ne sono state ma ce ne saranno tantissime. Io ricordo per esempio a Firenze abbiamo avuto il caso della Seves qualche anno fa che è su dimensioni più contenute ma è molto simile. Cioè aziende che rappresentano una ricchezza del territorio che lo Stato nazionale non fa niente per difenderle, finiscono nelle mani non di investitori stranieri che sarebbe poco male, ma di fondi speculativi che vivono la realtà aziendale unicamente come un più e un meno su un registro bancario e questo porta alla situazione del GKN. GKN è un caso nazionale non soltanto per il numero di persone, di famiglie che sono coinvolte, ma soprattutto per le modalità con cui questo è avvenuto, che richiama tristemente quanto già successo con Bekaert, che ha visto all'epoca l'impegno del ministro Di Maio. La viceministra Tod è stata immediatamente da noi avvisata e dopo l'incontro che ci è stato fatto ha dichiarato chiaramente che non accetterà una soluzione di questo tipo e continuerà a lavorare per far sì che si ritorni indietro, si faccia un passo indietro sui licenziamenti. E questo è l'impegno che dobbiamo avere tutti come Regione e come Governo, proprio perché purtroppo c'è stato lo sblocco dei licenziamenti, cosa che il Movimento 5 Stelle, diversamente da tutte le altre forze politiche dell'arco governativo, ha combattuto, significa che dovremmo combattere molto per tutti quei lavoratori che in questo momento sono a rischio del loro posto di lavoro e si parla di circa 15.000 in tutta la Toscana. Sto seguendo anche la vicenda di Vitesco per gli interinali e l'attenzione sul lavoro e della viceministra Tod su questo rimane altissima. Il distretto sanitario Arezzo-Casentino-Valtiberina verso la suddivisione in tre è stato compiuto un altro importante passo in avanti verso la revisione dei confini delle zone distretto sanitarie. Si è messo in moto l'iter da parte dei due assessori, quello alla sanità e quello al sociale e questo iter prevedeva anche l'acquisizione del parere dei sindaci che fanno parte della conferenza regionale della sanità. Questo parere c'è stato, è stato un parere positivo. Io avevo interloquito anche con alcuni di loro spiegando la specificità di questa situazione a retina che è l'unica che andrà in correzione nell'ambito della delibera che ora sarà approvata dalla Giunta per poi venire in consiglio ed essere sancita nell'ambito della legge. Io dico che questa è una delle poche cose buone che ha portato la pandemia cioè ha dato la certezza a molti amministratori locali che in questo caso hanno espresso parere favorevole per tornare indietro sulla divisione territoriale che prossimità significa anche vicinanza al cittadino. Noi lo sostenavamo da tempo, purtroppo o fortunatamente la regione toscana non è tutta uguale. Nella nostra provincia ci sono distanze molto grandi che non riusciamo a percorrere in tempi brevi causa la conformazione morfologica del nostro territorio. Non possiamo chiedere al cittadino di avere le stesse o differenti opportunità. Questo che significa? Che la pandemia ci ha messo di fronte alla necessità di essere vicini anche fisicamente ai nostri cittadini, ai nostri operatori e ridividere le zone di stretto significa ricreare dei perimetri più piccoli dove si leggeranno meglio i bisogni del territorio. Questa era la nostra ultima intervista. Cronache e commenti torna la prossima settimana. Cronache e commenti torna la prossima settimana.